Salve, io sono Franco Baggiani, insegnante di tromba e ottoni della Scuola Comunale di Musica di Ponte Assieme. I nostri corsi sono strutturati per accogliere bambini, ragazzi ed adulti. Per i bambini e per i ragazzi fino a 15 anni prestiamo lo strumento gratuitamente a tutti, diamo a tutti lo strumento gratis per poter iniziare, questo anche per poter aiutare le famiglie economicamente. I nostri corsi sono strutturati attraverso un programma molto serio in 5 anni e che ovviamente può essere fatto e può essere approcciato in maniera diversa. I bambini hanno un percorso molto più ludico per avvicinarli in maniera più divertente alla musica, mentre gli adulti e i ragazzi possano avere un approccio più serio. Ci sono due tipologie, i corsi base, sono quelli per amatori e per chi vuole apprendere la musica in maniera seria ma divertente senza impegni particolari e invece poi ci sono i corsi professionali e portano ai diploma SMC che è un diploma di 5 anni riconosciuto dalla regione foscana. I corsi invece degli accadefici sono i corsi che fanno sì che l'allievo venga preparato per poi accedere al triennio in conservatorio o negli istituti impareggiati. Abbiamo anche diverse produzioni in cui inserire i nostri allievi che sono la filarmonica Giuseppe Verdi di Ponta 7, la Sound Street Band, la Sound Orchestra e abbiamo l'orchestra dei ragazzi che è l'orchestra per i ragazzi tra i 6 e i 13 anni. I nostri insegnanti di Ottoni, perché non sono soltanto io ma ci sono altri miei collaboratori, siamo tutti professionisti e siamo tutte persone stimate e sicuramente siamo assolutamente all'altezza delle vostre esigenze.